Lo Spirito del Signore è verso di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato, lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la buona notte alla pai poveri, e esulto di gioia in Dio, mio Salvatore. Lo Spirito del Signore è verso di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato, lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore è verso di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato, lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore mi ha scelto, per annunziare la pace e la gioia. Il mio salvatore, lo spirito del Signore verso di te, lo spirito del Signore mi ha consacrato. Lo spirito del Signore oggi mi manda per annunziare la pace e la gioia. Lo spirito del Signore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Lo spirito del Signore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Lo spirito del Signore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. i ministri di Cristo sono sacerdote che vi conducano tra noi unica fonte di salvezza. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Il mio salvatore mi ha scelto per dar sollievo ai poveri che solleviano. Lo Spirito del Signore è piacere tu, per celebrare il suo amore ai patoli, che esulta di gioia in ti, mio Salvatore. Lo Spirito del Signore è preso di te, lo Spirito del Signore è consacrato. Lo Spirito del Signore è piacere in mano, e annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore è piacere in mano, e annunziare la pace e la gioia. Lo Spirito del Signore è piacere in mano, e annunziare la pace e la gioia.